Né Piappogatto né la Morina, non sono queste le fonti dell'ennesima ondata di cattivi odori che rende l'aria irrespirabile in queste notti estive a Via Reggio, dalla periferia al centro. Lo afferma Arpat dopo i rilevi eseguiti nel mese di luglio sul territorio, mai effettuati però nelle ore notturne. Il fenomeno delle male odoranze sta rendendo la vita impossibile ai Via Reggini, ormai da molti anni, con episodi limite di persone finite in ospedale per svenimenti. La situazione va costantemente monitorata, ha scritto l'Agenzia regionale per l'ambiente, che in un incontro recente con i comuni di Via Reggio e Massarosa ha individuato una soluzione. Incaricare 4 o 5 famiglie sentinella che riportino regolarmente alle polizie municipali la presenza dei cattivi odori anche di notte. Saranno poi comandi a contattare Arpat, che potrà inviare un operatore sul posto, ma solo su base volontaria, perché, sembra un paradosso, l'Agenzia non prevede turni lavorativi notturni. Massarosa ha già individuato le sue sentinelle. Appena lo farà Via Reggio, il protocollo partirà. Il sindaco di Via Reggio, Giorgio Del Ghingalo, che ha indicato ad Arpat un'azienda ad autorizzazione ambientale integrata, come possibile fonte del tanfo, attraverso la stampa si è detto pronto a presentare un esposto in procura, se il problema non viene risolto. Intanto il tempo passa, ma la puzza resta. Grazie. 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 Grazie.